Lo sportello di prenotazione CUP di Torni in Parte chiude due giorni su cinque per carenza di personale per tutto il mese di luglio ed esplode la protesta. Un servizio fondamentale non soltanto per il Paese ma per tutto il comprensorio, un bacino di utenza di 15.000 persone, cresciuto notevolmente soprattutto dopo il terremoto. Contro l'impoverimento dei servizi sanitari assistenziali dei più deboli interviene anche la CGL che ha organizzato per venerdì prossimo una grande manifestazione davanti al CUP dell'ospedale San Salvatore. E' dei giorni scorsi infatti la notizia dell'interruzione dello screening precoce del tumore mammario mentre aumentano le liste d'attesa destinate a crescere nel periodo estivo. Il sindaco di Torni in Parte Giacomo Carnicelli denuncia anche problemi strutturali nel distetto sanitario di Santo Stefano. E' di queste ore la comunicazione dell'Asla che riduce il servizio nel periodo estivo per carenza di personale. Questo vuol dire anche mettere in difficoltà un'utenza ampia di tutto il bacino ovest? Sì infatti perché il distretto sanitario di base di Torni in Parte serve anche il territorio di Scoppito, anche di Sassa e tutta questa zona che dopo il sisma ha visto notevolmente crescere il proprio peso demografico. Da quanto sappiamo è perché non ci sono le sostituzioni per il personale che giustamente va in ferie. E' possibile che un territorio venga impoverito in questo modo? Assolutamente no, tra l'altro il nostro distretto sanitario soffre di una carenza strutturale che è legata al collegamento internet per la quale già nei mesi scorsi avevamo richiesto un intervento del prefetto paventando la interruzione di pubblico servizio. Quindi noi aderiremo, io aderirò alla protesta di CGL, di SpiCGL indetta per il 12 perché questi presidi sono veramente quelli che poi fanno le aree interne. Le aree interne le facciamo così.